dall'inferno al paradiso un viaggio lungo sette giorni una settimana prima a potenza nella sfida contro il sorrento perina con le sue parate prima tiene in vita il foggia evitandogli a più riprese di finire sotto poi con un erroraccio vanifica il vantaggio di tascone e manda al ramengo il successo sette giorni dopo sempre perina protagonista prodezze decisive che consentono al foggia di battere la capolista e mettere tutti e due i piedi in zona playoff il calcio che toglie il calcio che dà per un portiere poi la regola vale ancora di più ma diciamo che sono cose che che capitano anche perché facendo questo ruolo può succedere di tutto mi dispiace mi è dispiaciuto molto importante anche regalare una gioia a tantissimi tifosi che sono venuti lì a potenza però come ti ho detto sono cose che capitano ho cercato di in questa settimana di isolare questo errore perché non portarmelo dietro perché se pensi sempre lì è dura è dura trascorrere la settimana allenarti sempre con il pensiero di quell'errore come ti ho detto ho cercato di eliminare subito questo diciamo questa clip e ho pensato subito la prova alla prossima che era la juve stabia una partita molto difficile contro la prima che avevano perso solo due partite quindi sapevamo che era dura siamo riusciti a vincere davanti anche tanti tifosi e l'accusa ormai è già archiviata perché ora dobbiamo pensare a Messina che è una partita molto difficile contro una squadra che il girone di ritorno sta facendo tanti punti cercheremo di andare lì e giocarci le nostre carte la classifica si è fatta interessante ma in casa rossonera si preferisce non fare voli pindarici d'altronde c'è da lottare in queste ultime sei giornate che separano dal termine della stagione regolare a cominciare dalla trasferta di sabato sul campo del Messina che la classifica dice essere una diretta concorrente del foggia nella corsa verso gli spareggi promozione il nostro obiettivo non ci dimentichiamo che è sempre la salvezza perché a gennaio eravamo messi non bene in classifica quindi facendo questo filotto di risultati ci siamo un po' tirati dal basso fondo però l'obiettivo nostro principale è la salvezza poi quello che verrà è tutto di guadagnato ora stiamo lì e ce la giocheremo perché non ci tiriamo indietro nel senso andiamo a giocare una partita importante sia per noi che per loro cercheremo di continuare su questo trend la qualificazione ai playoff passa anche per le sue parate e per qualche clean sheet che si rende più che mai necessario da quando difende i pali del foggia Perina è rimasto imbattuto solo in due occasioni nel derby di Brindisi e nella sfida interna col Picerno molti di più anche perché prendere gol è sempre brutto poi soprattutto anche domenica con la Juve Stabia abbiamo preso un gol nettamente fuori gioco però sono cose che capitano l'importante è aver portato i tre punti a casa che era la cosa più importante sia per noi che è regalare una gioia ai tifosi battere la prima in classifica non è diciamo non è da tutti i giorni anche perché come ti ho detto venivano da due sconfitte nel senso due sconfitte tutto l'anno fino adesso è una grande gioia per noi e per tutta la gente venivano da due sconfitte venivano da due sconfitte venivano da due sconfitte venivano da due sconfitte venivano da due sconfitte